vi faccio vedere una cosa questo qui è il costume che io ho comprato l'anno scorso prima di andare in Spagna ed è di Tezenis ed è una fascia perché io da quando ho iniziato la dieta nell'elontano 2011 mi sono resa conto che l'unico costume che mi stava bene e che quindi rispettasse le forme che io avevo o appunto quelle di essere un piccolo rettangolo erano quelli a fascia o cosiddetti a caramella la caramella non è altro che una fascia girata così e che quindi ha la forma di una caramella letteralmente quindi io che cosa facevo? Compravo questi costumi a fascia morbidi che dentro hanno questa specie di coppa preformata sottilissima tra l'altro quello che ho preso l'anno scorso in Italia da Tezenis prima di partire per la Spagna perché non avevo costumi diciamo così più nuovi ho preso questo qua che ho con questa fantasia verde con queste specie di fiori tropicali fiore verde chiaro che è appunto una fascia con il laccetto che va intorno al collo perché se no mi cade perché io mi tuffo faccio cose strane che aveva qui ho voluto un po' usare il sotto fatto così appunto con la sempre la stessa arricciatura della parte di sopra ed è fatto così questo è davanti questo è davanti tra l'altro sta un sacco di acqua di mare nonostante l'abbia sciacquato perché li sciacquo sempre con sui ovviamente se voi siete mai andati da Tezenis non la so sapete che per il sotto ci sono un sacco di modelli ci sono quelli classici con le coppe ci sono i sotto più a brasiliana più a slip normale ci sono i pantaloncini ci sono quelli interi ci sono un sacco di modelli io sono stata sempre cresciuta con i costumi interi fin da quando ero piccola mia madre mi ha sempre messo costumi interi perché erano più pratici per lei praticamente me li infilavo e me li sfilava subito fino alla seconda me gli ho sempre portato costumi interi perché diceva mia madre sempre che erano più pratici quando ho voluto iniziare a portare i costumi diciamo spezzati a due besti lì mia madre ha iniziato a vedere che il mio fisico stava cambiando e che stava diventando comunque quello più femminile ma che non era ancora il fisico di una persona che si stava formando ma era ancora il fisico di una bambina che guadagnava grasso nei punti sbagliati quindi che cosa ho fatto andando in Spagna ho voluto comprare forse per la prima volta da non so quanti millenni da quando appunto compravo i costumi a fascia forse un costume che ora mi viene in mente con una classica forma insomma quindi con le coppe era un costume giallo che io avevo non mi ricordo neanche in che anno forse si parla del 2000 eh 2006 2007 probabilmente sì 2006-2007 ed era un costume giallo evidenzatore allora che presi tra l'altro a un negozio qui vicino poi per il resto io ho sempre avuto costumi a fascia o costumi interi quindi in Spagna ho voluto comprare due costumi ovvero questo che è di Calzedonia perché io li ho comprati a Calzedonia perché mi sono resa conto che i costumi di The Zenith mi piacciono fino ad un certo punto ed è questo qui che tra l'altro non mi piace neanche tanto perché sì la Fantasia mi piace un sacco però non mi piace tanto come è fatto voi mi state chiedendo perché l'hai comprato giustamente perché in quel momento quello che cercavo non c'era ed è quello che poi ho comprato dopo e quindi ho detto vabbè prendo questo questo mi sa che la bruciatura è assai rispetto a quello vabbè questo è il sopra e ha le bretelle così che si incassano qui e dietro si lega con un semplicissimo fiocco ed è quello che quest'anno ho messo per la prima volta dove mi sono procurata una fantastica bruciatura perché di questo non mi piace perché la parte di sopra è larga è grande per me quindi quando io mi bagno a parte a cadermi palesemente si svuota cioè si svuota letteralmente quindi io ho una coppa vuota che non è piena perché nonostante questa sia una terza io questo non lo riempio comunque il pezzo di sotto invece è così ed è un classico sotto tra virgolette con i fiocchetti di lato è uno slip normale questo anche di questo io avrei voluto un altro modello che invece era tutto quanto unito e aveva il bordino arricciato come il sopra su tutto il bordino poi finalmente ho deciso di prendere questo che penso essere il mio preferito in assoluto di sempre ovvero questo qui celeste in realtà io ne volevo uno che era giallo che aveva il sopra tutto con le frange però non c'era la taglia e ancora sogno un costume di calzetonia che non ho mai preso madonna quanto odora ancora di detersivo questo coso allora il sopra è così e io di questi me ne sono provati un sacco cioè quel giorno mi provai tutto quanto calzetonia spagnolo che c'era la commessa che diceva beh hai finito me ne provai veramente tanti perché provai la fascia e non mi piaceva cioè mi piaceva come mi sa però ho detto no voglio cambiare mi provai un sacco di pezzi di sopra fatti diciamo modello tradizionale e alla fine ho preso questo qui cosa di particolare questo qui vabbè a parte avere le bretelle che si si possono saccare ma alla fine sono cocite si laccia da dietro con questa clip da dietro io ho un torace particolarmente largo tra l'altro si allaggia così ed è questa la circonferenza del torace questo qui è leggermente imbottito da sotto quindi tende a sollevare un po' però non è neanche tanto imbottito cioè guardate lo spessore si vede di lato non è molto imbottito però a me piace come sta ma la cosa che mi piace di più di questo costume è il pezzo di sotto che anche in questo caso si poteva prendere ad esempio così o in altri modi e io l'ho voluto prendere così davanti è particolarmente coprente quindi è largo a differenza di questo che è molto molto più stretto questo davanti è molto molto più coprente molto più coperto e dietro è fatto così con la scritta calzedonia dietro a me questo costume piace un sacco tutti quanti dicono che mi sta bene ma è piccolo cioè le forme escono un po' fuori però mi piace come sta perché lo riempio per bene lo riempio completamente lo riempio tutto a differenza di questo che il sopra è particolarmente largo e il sotto secondo me non mi sta bene cioè non valorizza le forme che ho quindi quando voi acquistate qualcosa cercate di trovare qualcosa che vi valorizzi questo tra l'altro è un elastico che ha la stessa forma cioè ha la stessa materiale un costume quindi quando voi lo portate nei capelli non vi cade anche se fate il bagno salvezza è la mia vita presto date il calcone a un euro quindi se lo trovate ragazze compratelo ragazzi ragazzi insomma chi caspita serve compratelo perché non c'è nessuno che deve giudicare voi stessi se non voi stessi che deve giudicare che deve giudicare che deve giudicare